Allora, ringrazio i ragazzi, no a parte scherzi, è stata, poteva essere, abbiamo delle grandi occasioni di ambole parte. Pareggio lusso secondo lei? Beh, secondo me c'è stato. Che emozione è il Derby? È il suo secondo Derby per essere il primo fascino attore di questo. No, io, il Derby è Derby, perché l'hanno inventato in Inghilterra, era una città che si chiamava Derby, lo sa lei. Però io non ne la faccio, perché ogni partita si sento male. Al Presidente Prezzosi vi siete visti? Cosa vi siete agliettivi? Ci siamo abbracciati in lingua in voluta. Ma è una partita che merita le 20.45, la prima serata o le 18.03? Questa è una cosa che io non sono esperto, non so rispondere. Un Derby merita più attenzione, però alla fine sono sempre tre punti. Faccio un po' il giornalista, il migliore del genere è quello del... Il migliore? Del Genoa e della Sardegna. Beh, secondo me sono stati i migliori tutti e di noi. Grazie. Ciao, Presidente. Non sono un grande esperto di nomi di calcio, lei mi vuole fare le trampole. Vabbè, almeno quello della Sampdoria. Il migliore della Sampdoria. Il migliore è lei. Giù, parola. Ciao. Il Presidente, i prezzi di biglietti così alti. Non ho capito niente. I prezzi dei biglietti così alti. E ho detto che era la biglietteria, non lo chiede a me.